Non ha il coraggio in pratica di avvicinarsi, però è spinto dall'assaggio di questi prodotti, soprattutto gratis appunto, e voilà, dopo tanto tempo è riuscito comunque ad avvicinarsi alla bancarella qui, al distributore, furgoncino insomma, furgoncino distributore di questi snack e riesce insomma a probabilmente, ecco qua, è riuscito nel suo intento, fortissimo, era da circa 20 minuti veramente che stava girando intorno al furgoncino qui insomma, terribile, bravo, è riuscito, è riuscito, beh è qui, beh anche io partono i treni qua, signori dove avete gli occhi, ma che cosa?